Buonasera e ben ritrovati per la terza volta consecutiva in consiglio regionale viene rinviata la discussione sulla proposta di legge di riforma dell'agenzia per le politiche attive del lavoro la ARPAL, una modifica dell'assetto societario che se fosse approvata comporterebbe la decadenza del ruolo di direttore generale di Massimo Cassano. Nel pomeriggio i lavori sono stati interrotti prima che si arrivasse a discutere della PDL per venir meno del numero legale durante la discussione sul disegno di legge riguardante la organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali. Prima il Consiglio è stato sospeso per circa due ore per analizzare gli emendamenti alla ripresa è venuto meno il numero legale. Non sono state discusse nemmeno le proposte di legge tanto attese dalle famiglie e dalle imprese per l'abbattimento del costo delle bollette di luce e gas. Cinque donne hanno aiutato gli inquirenti a svelare il sistema Maffei rispetto alle elezioni comunali foggiane del 2019 e a quelle regionali del 2020. Sentiamo Lucia Piemontese. È il sistema Maffei quello che emerge dalle indagini compiute negli ultimi anni dalla procura di Foggia sia rispetto alle elezioni comunali del 2019 che alle regionali dell'anno successivo il 2020. Danilo Maffei figlio del presidente della cooperativa Astra Ludovico fu eletto nel 2019 divenne consigliere comunale di maggioranza con 913 voti e ottenne la denega allo sport dall'allora sindaco Franco Landella e poi si candidò alle regionali dell'anno successivo ottenendo una impressionante performance oltre 5.200 voti di cui 4.200 circa nel solo capologo d'Aunio. Quel sistema che cinque donne hanno contribuito a svelare. Quattro erano dipendenti della cooperativa Astra che furono ascoltate a gennaio 2021 dalla Digos come persone informate sui fatti nell'ambito del procedimento penale per corruzione elettorale, minacce, altre ipotesi di reato. La quinta è la consigliera regionale 5 Stelle Rosa Barone che raccolse la testimonianza di quelle donne e fece un esposto alla procura. Sull'attacco di oggi ci sono i particolari di quanto le quattro lavoratrici dissero agli inquirenti e che hanno portato poi all'indagine a carico dei due Maffei padre e figlio. Il padre è stato interdetto nei giorni scorsi dai rapporti con la pubblica amministrazione e gli è stato vietato temporaneamente l'attività di impresa. Altre 21 persone sono indagate per corruzione elettorale rispetto alle regionali. Il presidente Emiliano mantenga gli impegni assunti. La Fialz di Foggia ha incontrato una rappresentanza del personale precario della sanità pubblica per fare il punto della situazione sul tema della stabilizzazione. Sentiamo Mauro Pitullo. Da Erui ha dimenticato il passo è stato molto breve. Una delegazione dei lavoratori del settore sanità di tutti gli ordini e gradi sostanzialmente si sono incontrati questo pomeriggio presso la sede Fialz di Foggia in via Francesco Crispi per chiedere che i loro diritti vengano quindi rispettati, per chiedere stabilizzazione. Insomma da Erui ha dimenticato il passo è stato molto breve. Io direi non molto breve, direi proprio brevissimo. Quindi spero che la regione dia inizio a questa stabilizzazione perché l'ha promesso, l'ha promesso in campagna elettorale, l'ha promesso il presidente della regione, l'ha promesso l'assessore della sanità. Noi siamo fiduciosi che lo faranno, però stiamo sempre attenti e se ciò non avverrà faremo lo sciopero regionale. Ecco avevate indetto già una manifestazione, un sciopero per il prossimo 20. No, avevamo indetto il giorno 20 come Fialz sindacato. Quindi poi l'assessore ci ha chiamati a colloquio. Noi abbiamo chiesto un protocollo di intesa con lui per stabilire tutti i passaggi di questa stabilizzazione. Io spero che l'assessore risponda a quel protocollo e lo firmi. In caso contrario riprendiremo lo sciopero. Di quanti lavoratori parliamo? Noi parliamo di un lavoratore solo nella provincia di Foggia, parliamo di un lavoratore di quasi 600-700 persone. Suddivisi in tutte le strutture? In tutte le figure professionali. Maggiormente gli infermieri che sono 450. Non ha convinto la procedura per le progressioni verticali espletata dalla ASL Foggia nei giorni scorsi e che ha promosso 16 dipendenti su una cinquantina di candidati. A manifestare le sue perplessità è il segretario regionale della CONFAEL, Domenico Brienza, che chiede l'annullamento del concorso. Sentiamo Cinzia Celeste. Si annulla immediatamente quel concorso. È la richiesta che Domenico Brienza, segretario regionale della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, ha inoltrato alla direzione generale della ASL dopo aver riscontrato delle irregolarità nell'espletamento dei test nell'avviso interno per le progressioni verticali per il conferimento di 16 incarichi di cauditore amministrativo categoria B riservato esclusivamente ai dipendenti dell'azienda sanitaria. Irregolarità che il sindacalista, che non partecipa alla selezione, aveva messo tempestivamente in evidenza a voce e per iscritto sia al Presidente della Commissione che alla Governance della ASL. La mia segnalazione è partita prima ancora che fosse pubblicato l'esito della prova scritta sostenuta dai candidati il 26 settembre. Ha spiegato in premessa Brienza l'attacco, proprio per evitare che si potesse pensare a recriminazioni da parte di chi non ha ottenuto un buon risultato. È sulla nomina della Commissione e sulle modalità scelte per rispettare la prova scritta che il sindacalista pone l'accento e chiede perché non si sia affidata la procedura ad una ditta esterna che avrebbe garantito maggiore trasparenza e imparzialità. Chieste spiegazioni, la risposta della Governance della ASL è stata chiara. La procedura, secondo la relazione del Presidente di Commissione, si è svolta secondo linearità, imparzialità e trasparenza. Svolta in casa, cioè gestita all'interno dell'azienda, per non gravare sulle finanze della ASL. A questo punto chiediamo l'annullamento della prova o in alternativa e in maniera provocatoria la progressione di tutti i candidati come forma di ristoro rispetto a una procedura dal nostro punto di vista irregolare. ha concluso Brienza. Cambiamo argomento, la transizione energetica nel mezzogiorno va immaginata a cominciare dall'ingresso delle nuove tecnologie. La Puglia figura tra i primi produttori di energie alternative e può avere un ruolo di riferimento nella transizione energetica. Se ne è parlato questa mattina in un convegno a Bari. Sentiamo. La transizione ecologica nel mezzogiorno va immaginata a cominciare dall'ingresso delle nuove tecnologie. La Puglia figura tra i primi produttori di energie alternative e può avere un ruolo di riferimento nel processo di transizione energetica ed ecologica. Confronto diretto alla Fiera dell'Evante di Bari, tra istituzioni, mondo accademico, imprese e i principali attori del mercato nazionale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Orientamenti e strategie sono state illustrate dal presidente della regione Michele Emiliano e dall'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci. Siamo i primi produttori di energie alternative e quindi possiamo produrre anche idrogeno che serve ad avere temperature un po' più alte per le industrie energivore a basso costo e quindi questo è il processo al quale stiamo lavorando da tanti anni che peraltro garantisce autonomia strategica ma anche salute per le persone perché non ci sono emissioni di CO2 elevate, non ci sono emissioni di sostanze inquinanti. Siamo impegnati sul tema dell'energia, del protagonismo energetico che vuole avere la regione Puglia, le condizioni in questo momento consentono non solo un'attenzione nazionale e internazionale rispetto a investimenti a poter fare in Puglia per le condizioni climatiche e paesaggistiche ma consentono la necessità di infrastrutturare meglio il territorio. Credono le condizioni per un reale vantaggio competitivo della Puglia che non sia solo luogo di insediamento di grandi impianti ma che sia luogo in cui questa energia si possa accumulare e che i cittadini possano essere finalmente però agonisti questa sfida. Bisogna da un lato cercare di utilizzare già ciò che c'è nei laboratori di ricerca, trasferirlo alle imprese, dall'altro aiutare il sistema a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Dobbiamo puntare sulle rinnovabili, sulla possibilità di avere impianti offshore, bisogna investire molto nei prossimi anni. Sono 84 i comuni pugliesi sotto monitoraggio in gran parte nel subappenino Dauno e Gargano per attività di microzonazione per rischi sismici. 41 studi sono già stati chiusi e validati. In parallelo sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico la regione sta lavorando ad oltre 400 progetti, mentre il commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ne ha affrontati già una quarantina. Sono i dati emersi questa mattina nel secondo dei quattro convegni tematici organizzati da ASSET. La regione Puglia è stato evidenziato, è attenta al territorio, alla sua salvaguardia e all'abitare in sicurezza, una regione con aree esposte a rischi sismici, ma che sta studiando dettagliatamente il suolo e il sottosuolo, sia per orientare nuovi insediamenti, sia per pianificare l'organizzazione delle emergenze. Secondo incontro di presentazione dell'avviso, punti cardinali, azioni di sistema per l'orientamento. Si tratta di una misura innovativa all'interno della strategia Agenda per il lavoro della regione Puglia. Il bando, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, si rivolge agli enti locali e in particolar modo ai comuni, con l'obiettivo di potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. La regione Puglia si muove sul fronte dell'orientamento e della formazione. Secondo incontro di presentazione dell'avviso, punti cardinali, una misura innovativa all'interno della strategia Agenda per il lavoro della regione Puglia, il futuro è un capolavoro. Dopo la prima tappa di presentazione dell'avviso a Sportello, ospitata a Foggia nella community library della biblioteca provinciale, a cui ha preso parte una folta platea di sindaci, scuole università, factory e sindacati, l'iniziativa all'interno dell'annuale appuntamento fieristico. Il bando, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, si rivolge agli enti locali ed in particolar modo ai comuni, con l'obiettivo di potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio. La misura già attiva dallo scorso 22 settembre consente ai comuni raccolti in rete, con centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, scuole, università, ITS, enti di formazione ed enti del terzo settore, tra imprese e associazioni di categorie, proposte progettuali che rafforzino le politiche di orientamento promosse dal territorio tramite tre azioni, laboratori di orientamento, job days e sportelli di orientamento. Ripartiamo dall'informazione e come? Creando e strutturando delle reti che potranno svolgere tre tipi di attività, l'orientation lab, quindi dei laboratori esperenziali o di informazioni o di formazione da svolgere anche in luoghi non convenzionali, come le factory e co-working di agenda del lavoro o come le biblioteche, le community library, i musei e quindi i laboratori urbani, cioè punti già finanziati da Regione Puglia. Saranno finanziati job day, quindi degli eventi che servano anche a creare questa sorta di B2B del lavoro, cioè le borse locali di prossimità e poi finanziamo anche la creazione di deschi informativi che non necessariamente devono prevedere nuovi luoghi ma possono anche rivitalizzare i luoghi esistenti. Orientarsi è fondamentale e quindi stiamo cercando insieme agli enti locali soprattutto ma anche ai portatori di interessi legittimi di costruire dei percorsi efficaci per il territorio, quindi siamo convinti che questa è una misura importante che va supportata e va strutturata ancora meglio nel corso degli anni. Chiudiamo con lo sport, prezioso pari del Foggia che nel turno infrasettimanale di Castellamare di Stabia impone l'1-1 alle Vespe. Sotto di un gol e in inferiorità numerica per l'ingenia espulsione di Vutai, sul finire del primo tempo i rossoneri a tre minuti dall'epilogo colpiscono con Ogunseie subentrato dopo lo svantaggio e strappano così l'1-1 finale che è meritatissimo in virtù anche della traversa colpita sullo 0-0 da Malomo. Il Foggia sale così ad otto punti in classifica. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani sempre alla stessa ora con l'informazione del quotidiano L'Attacco.